Perché le olimpiedi furono importanti per gli antichi greci? Le olimpiedi furono un momento in cui i greci si ritrovavano insieme per fare delle gare. Le prime olimpiedi furono nel 776 a.C. Questa data è importante perché segna l'anno zero per i greci. I greci decidono di utilizzare come anno zero la data della prima olimpiade. Ogni quattro anni si ritrovavano insieme. Le polis, spesso in conflitto fra loro, fermavano le guerre per dare la possibilità agli atleti di poter partecipare a queste gare sportive in cui i greci si ritrovavano, in cui i vincitori ritornati in patria venivano festeggiati come degli eroi. Soltanto i vincitori ricevevano onori dagli altri greci. queste gare furono l'occasione per dare la possibilità ai greci di sentirsi un unico popolo che alla base del governo greco era la polis. Ogni città aveva le sue leggi. Spesso entrava in conflitto con le altre greci. Ma ogni quattro anni i conflitti venivano fermati per dare la possibilità agli atleti di poter partecipare a queste gare che hanno come scopo quello di festeggiare Zeus, il padre degli dei, che danno la possibilità ai greci di sentirsi un unico popolo. Lo sport divenne lo strumento per far acquisire identità di popolo ai greci. Anche se il loro governo era rappresentato dalla polis, città-stato, ogni città aveva le sue leggi e le sue consuetudini.